Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Garcini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnala la chiusura per lavori del tratto tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. Sempre verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sulla strada regionale 2 via Cassia restringimento di carreggiata e senso unico alternato tra i chilometri 278 e 900 e 279 e 500 circa nel comune di San Casciano in Val di Pesa fino al 20 gennaio H24. Per la viabilità cittadina a Firenze dalle 21 del 7 gennaio alle 6 del 10 gennaio restringimenti di carreggiata per lavori in Viale Belfiore, altezza via Guido Monaco. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!